salve ragazzi amici del web sono andrea bruni in questo momento mi trovo in malesia dite sempre che non vi faccio mai vedere nulla di interessante questa volta questo clip lo potremo intitolare tutta la malesia in 10 secondi eccovi qua guardate il posto è super caratteristico abbiamo il famosissimo tempio buddista non disturbiamo quello che sta pregando guardate questa inquadratura stile coloniale e qua abbiamo l'uomo del monte con l'imbarcazione le barche di braccio di ferro eccoci qua ciao a tutti